Non dovrebbero esserci rischi di inquinamento per il fiume Irno perché potrebbe non essere stato interessato dallo sversamento del liquido finito a terra dopo la caduta di alcuni grossi fusti di plastica nell'ex capannone delle MCM di Pellezzano che contenevano sostanze acide corrosive ed ammoniaca. Dopo l'allarme scattato nella notte di sabato nell'area dell'ex manifatture di fratte e di rilievi effettuati dall'ARPAC, resta alta l'attenzione per un possibile rischio di inquinamento ambientale. Dopo l'ammissione di responsabilità di un dipendente della ditta Soggeri SRL incaricata della bonifica dell'area dalla proprietà Lettieri che avrebbe ammesso che i fusti sarebbero caduti durante delle operazioni di movimento nell'area di smessa, stamani il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha voluto recarsi personalmente negli uffici dell'ARPAC di Salerno per capire se il fiume Irno sia stato interessato dallo sversamento. Per avere dati certi e capire se c'è tossicità bisognerà attendere i risultati dei prelievi fatti dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che ha disposto ulteriori verifiche sulle falde acquifere e sul terreno inviati alla sede di Agnano che dispone delle strumentazioni tecniche per l'analisi delle sostanze tossiche. Mi sono recato all'ARPAC per chiedere di persona l'UMI su quanto è in corso di elaborazione. Parrebbe, mi daranno le risultanze formali, parrebbe che il fiume non è stato interessato da sversamenti. Questa mattina avrebbero anche verificato la possibilità di darmi le risultanze per quanto riguarda i metalli pesanti, che sono un ulteriore riscontro che loro devono fare, per quanto riguarda le sostanze tossiche che sono state inviate all'ARPAC di Agnano, che è depositaria delle tecnologie per verificare l'inquinamento tossico per quanto riguarda i suoni e quant'altro. Allo Stato dell'Arte parrebbe che non ci siano particolari problemi. La magistratura sta intervenendo. Ho chiesto al responsabile dell'ARPAC la possibilità di verifiche in sito dei suoni per quanto riguarda un'eventuale contaminazione e mi è stato rassicurato che è già in corso. Per il resto, come lei diceva, io sono il sindaco di Salerno, il sindaco e il mio collega di Pellezzano, con il quale sono in stretto rapporto naturalmente, sta curando gli aspetti relativi alla sanificazione del suolo. Credo che lui debba ordinare la sanificazione del suolo all'impresa o al proprietario. L'impresa e il proprietario dovranno fare un piano che andrà sottoposto alle loro considerazioni, dopodiché, una volta autorizzati, procedere alla sanificazione del suolo. Credo sostanzialmente che non ci siano rischi allo Stato dell'Arte, almeno di approfondimenti ulteriori, ma mi sentirei di stare sufficientemente tranquillo. Per il resto seguiremo di ora in ora quando succede e quando potrà succedere.